Controlli a tappeto delle forze dell'ordine in tutta la provincia. I dati parlano di quasi 55.000 persone fermate nel Padovano dal 10 marzo. Di queste sono 2.574 quelle sanzionate e 918 quelle denunciate. A 90 Padovano, un episodio particolare, 4 minorenni tra i 14 e i 16 anni, tutti residenti nel comune alle porte del capoluogo, sono entrati in un'area verde pubblica per tirare 4 calci ad un pallone. Alcuni residenti hanno però allertato i carabinieri che giunti sul posto hanno dovuto elevare una multa da 400 euro ciascuno, viste le norme che vietano di frequentare parchi pubblici. Sempre a 90 Padovana, la polizia locale ha multato 5 ciclisti che si trovavano in strada senza un valido motivo.